Attenzione, warning, il video che state per visionare, è la soluzione della mappa avventura, chiamata, The Miley, creata dal capobastone. Se non l'avete ancora giocata, potete trovare il link per scaricarla, cliccando qui sotto. Allora, non clicchi? Ma vai in mona. E siamo qua. Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Siamo pronti per iniziare l'avventura. Ci ho messo diverse settimane per sviluppare questa mappa, quindi cercate di divertirvi, altrimenti riceverete numerose scarpate in bocca. Per prima cosa, dobbiamo equipaggiarci, raccogliendo gli oggetti nella cassa, indossando l'armatura di fango e merda, e sistemando le armi nell'inventario, come ci è più comodo. Una volta fatto tutto ciò, visioniamo la mappa che abbiamo trovato nella cassa, ce vedi, cosa c'è scritto chi? Custom map by capobastone. Questo è il marchio di fabbrica infernale, che attesta ufficialmente la paternità della mappa. Ok, tuffiamoci in acqua, e dirigiamoci verso la torcia. L'ho messo apposta, per le teste di cazzo, altrimenti sarebbero finiti dall'altra parte della mappa. Cioè immaginatevi la scena, avrebbero camminato per due ore dalla parte opposta, tutti belli convinti. Ehi ma, che cazzo è sta roba? C'è una mucca nascosta nella sterpaglia, e mi guarda pure con occhi di sfida. Sei fortunata che sto facendo un video, altrimenti finivi male. Ma andiamo avanti. Come potete vedere, vi basterà seguire la strada, fino al raggiungimento di una grotta. Come avevo già detto nel video precedente, non potete spaccare nulla, tranne le ragnatele, e le liane. In questo caso, spaccate le liane per aprirvi una strada. O meglio, voi pensate che siano liane, in realtà, sono tarzanelli di troll. Ma non importa, avete il permesso di spaccarli. Avventuratevi dentro la grotta, e notate la qualità della mappa, con liane, spaccature, e ragnatele. Sono stato bravo a crearla, e, per continuare, bisogna scendere in basso, ma prima di farlo, diamo un'occhiata qua sopra. Uh, 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 abbiamo trovato il primo baule segreto. Guardando la mappa, vi apparirà sotto gli occhi, il bastone infernale del cobra. Complimenti stronzoni, avete trovato il primo segreto. Conservatelo nell'inventario, e procediamo. Ok, c'è un vicolo cieco. Ma forse, non è cieco, ed ha solo bisogno di un paio d'occhiali. Tirate quella fottuta leva, e vi si aprirà una porta segreta nel muro. Eh, che macello, che grasciaro. Girate a destra, e poi a sinistra per continuare. Ma prima di far ciò, andiamo a vedere la seconda cassa segreta. Uh, 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 ecco il secondo tesoro allucinante. Sono curioso di sapere cos'è. Ma guarda guarda, è una sega. Quella che vi fate voi, mentre guardate i miei video. Ficchiamola nell'inventario, e procediamo. Ok, siamo di fronte al primo, è vero, enigma, della mappa. Questo enigma si chiama, t'inculo con la sabbia. L'obiettivo, è portare il cubetto di sabbia, fino alla fine del percorso, in modo tale, che, il cubetto, prema una pressur plate, e faccia aprire una delle porte laggiù in fondo. Per spostare il cubetto di sabbia, dovremmo azionare dei pistoni, che se premuti nell'ordine giusto, ci permetteranno, di farlo muovere. Lo so che non avete capito un cazzo, ma se avviate il vostro cervello, in modalità provvisoria, dovreste capire il funzionamento. Premete un solo pistone alla volta, perché, se si baga il meccanismo, non riuscirete più ad aprire la porta. In quel caso, siete autorizzati a sfondarla. Ci siamo quasi, manca l'ultimo pistone da azionare. Et voilà, la porta è aperta. Godi popolo. Prima di proseguire, andiamo a prendere degli oggetti da una cassa. Questo non è considerato come un segreto, perché la cassa è in bella vista, ma è considerato solo un aiuto extra. Le cosce di pollo, sono considerate sacre, dai discepoli del santo Benzoni, quindi ingurgitatele, pregando il dio del medallo, che possa esservi benevolo. Procedete sempre dritti, scendendo le scale, fino a ritrovarvi davanti, il sacro tempio dei Maya. Avete riconosciuto la musichetta? Ve la faccio risentire. Niente. È quella di Indiana Jones, razza di coglioni. Porca puttana c'era un creeper che è sbucato fuori all'improvviso. Fiu, ci è andata bene. Fai buon volo, spinaccio congelato. Adesso, andiamo a prendere la terza cassa segreta. So che non vedete un cazzo, perché è buio, ma se avessi messo una torcia, non sarebbe stata più segreta. Andiamo verso la luce, e vediamo cosa abbiamo trovato. Un pollo! Bello sto pollo, possiamo sacrificare questo pollo, a satana, a satana. Mettiamolo subito nell'inventario, e proseguiamo giù dalle scale, stando ben attenti ai buchi. Dopo anni e anni, queste scale sono state logurate dal tempo, e ci sono parecchi buchi in cui si può cadere, e farsi molto male. Procedete con cautela. Una volta arrivati alla base del tempio, uccidete tutti gli eventuali mostri, nelle vicinanze, e andiamo a scoprire il quarto segreto. Questa torre sfondata, e impestata di merda, nasconde il quarto baule. Per trovarlo, bisognerà salire le scale, e farsi strada tra le liane. Il segreto nascosto in questo baule, mi sta particolarmente a cuore. Siete curiosi di sapere cos'è, vero merdoni? Allora preparate i cazzi, e guardate. Sì sì, è proprio lui, ping pong. Pronto, signore, grazie per essere tornato su mine class. Ho tenuto il mondo 5 pulito e in ordine. Sì sì, vai in culo. Mettiamo via il quarto tesoro allucinante, e proseguiamo. Ah, mi ero dimenticato di dirvi che, se trovate della carne avariata, o altre cose, prese dai mob, potete benissimo utilizzarle. Io vi ho messo 10 carote nel tukul, ma se queste non dovessero bastare, potete anche usare oggetti che trovate in giro. Ecco la quinta cassa segreta. Con un po' di intuito, ci possono arrivare tutti, e quindi ci ho messo solamente, una croce rovesciata d'oro. Perfetto, ora manca solo l'ultimo segreto, ma è dentro il tempio. Ci penseremo una volta arrivati. Allora, adesso vi faccio vedere passo passo come si fa, perché alcuni ritardati, si sono bloccati in questo punto, e mi hanno scritto tutti disperati. Katabastana, ma come si entra nel tempia, ma come faccia, oh my god. Allora, come avete letto chiaramente sui cartelli, questa è l'entrata del tempio. Vedete che non si può entrare, ed è chiusa. Lo vedete oppure avete qualche problema mentale? Perfetto. In uno dei due cartelli, c'è scritto che per entrare, è necessaria una chiave. E dove sarà mai questa chiave? Forse sul soffitto, oppure 500 cubi sotto terra? Non è che per caso, vi è venuto in mente di controllare l'altra torre davanti a voi, no? E? Dico così, tanto per provare. Figuriamoci se vi può venire in mente una cosa simile. Proviamo a salire le scale, magari di sopra c'è qualcosa di interessante. Oh, ma guarda guarda, c'è una cassa. Da qui, è inaccessibile, però, se notate bene, c'è una spaccatura sopra, porca troia, un'imboscata. Venite qua, venite qua, aia. Questa era vicina. State attenti ai mob, perché possono tendervi delle imboscate e farvi saltare per aria, all'improvviso. Alcuni mi hanno detto, capabastana, ma non potevi usare il comando per impedire ai creeper di distruggere la roba. Allora, io ho scoperto solo ieri, l'esistenza del blocco comandi, quindi, non potevo inserirlo nella mappa, ma in ogni caso, non l'avrei utilizzato, perché, che cazzo di senso ha? Le esplosioni, fanno parte del gioco. Voi siete troppo abituati, ai server di merda, tutti blindati, dove non è possibile raccogliere nemmeno un fiorellino. Comunque, bando alle ciance, ecco la chiave per aprire la porta del tempio. Ce vedi, cosa c'è scritto qui? C'è scritto che, questa chiave, apre le porte del tempio. Era così difficile trovarla? Ah, mi sono dimenticato di dirvi che, nel caso crepiate come degli stronzi, il punto di respan è sfasato, quindi, non vi riporterà sul canotto buco, ma in culo al mondo. La soluzione per questa cosa, è ovviamente, quella di non morire. Poi, la questione checkpoint, con i letti. La mappa dura pochissimo, avete anche bisogno di salvare? Ma per favore, guardate che panorama, sembra che il cielo sia infestato. Terribile. Se poi vi arriva un creeper alle spalle, come in questo caso, fateli capire chi comanda, no. Ora non ci resta altro, che inserire la leva, nella zona indicata dal cartello, e tirarla, lo so che sembrerà incredibile, ma la porta, si aprirà davvero, guardate voi stessi. Oh my god, oh my god, non ci credo, si è aperta la porta. What the fuck? Madonna, guardate, 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 siamo dentro al tempio. Sto parlando come Giuseppe Simone, ripetendo le stesse cose tre volte di fila, mamma mia, anzi, mamma tua. Ok, per questo episodio abbiamo finito. Clicca sul tempio, per andare alla seconda parte. Ovviamente, il link, sarà disponibile al più presto possibile, avete gabido, merdoni. Mi avete scritto in tanti, dicendomi che avete apprezzato la mappa, e quindi, sappiate che, sto già lavorando, ad un'altra avventura. Ora vi saluto, perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto.